Perché, ma perché questa notte Alle ore in più le che non passano mai Ma che in ogni minuto Tu la un'eternità Ma che in ogni minuto Che in ogni minuto Che in ogni minuto Che in ogni minuto Grazie a tutti. 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 E poi entra lei una battuta dopo, rispetta, dal dico, entra una battuta dopo, ti dico io quando. Cioè, per esempio, c'è una battuta in più all'inizio, poi se non entro non vi preoccupate, sto per entrare. Che c'è una battuta in più. Ah no, perché io parlavo con te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutte, tutti. Grazie a 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 tutti.